Ah, fa troppo, troppo caldo, ma nonostante tutto sono qui, vidacquisti di luglio, tra l'altro questo mese vedrete molti acquisti che ho effettuato nell'usato, visto che c'è stato anche il Rimini Comics nel mentre, prima fiera alla quale ho partecipato, tra l'altro visto che erano anni che ci volevo andare ma tra una cosa e l'altra non ci riuscivo mai e la fiera offriva anche qualcosa per quanto riguarda l'usato, nulla di eclatante però c'erano degli stand Che avevano qualcosa di interessante, quindi qualcosina mi sono portato a casa Tra l'altro in fiera mi ha fatto piacere beccare Francesco della soffitta di camera mia che saluto, che ha un canale YouTube anche lui dove parla di fumetti, se non lo seguite andatelo assolutamente a seguire, oltre che ho beccato uno di voi Stefano che anche lui saluto, che tra l'altro mi ha beccato in un momento dove ero veramente in uno stato pietoso perché faceva caldo, ero torso nudo, lì dai tavoli, dalle panchine vicino alla fiera Che attendevo che aprissero, che aprissero insomma gli stand, quindi mi ha fatto molto ridere ma mi ha fatto assolutamente piacere Quindi detto questo poi non ci saranno acquisti effettuati solo durante Rimini Comics perché ho colto un'altra bella occasione per quanto riguarda dei recuperi Quindi direi di non indugiare oltre e di partire con i videoacquisti del mese di luglio 2024 Allora partiamo dal recupero, questo effettuato in fumetteria dai buoni amici di Reggio Comics Reborn Vi ricordo sempre il mio codice sconto nel caso vogliate acquistare da loro tramite le loro pagine social, Instagram e Facebook Insomma vi potete far spedire i volumi e se specificate che utilizzate il codice sconto ARIS potete avere il 5% di sconto Perché appunto grazie agli sconti J-pop ho recuperato Ping Pong di Tayo Matsumoto in questo bel cofanetto Adesso vi faccio vedere i due volumozzi più nel dettaglio Abbiamo qua il primo e qua il secondo Tra l'altro utile che all'interno dei volumi c'erano anche questi pratici segnalibri Che sono stati molto comodi per quanto riguarda la lettura di questa serie che devo dire mi è piaciuta parecchio Ammetto candidamente che all'inizio, inizio cioè proprio i primi capitoli Ero un po' non ero ancora del tutto convinto Perché non ero ancora entrato totalmente in empatia con i personaggi, con i protagonisti Ma poi pian piano andando avanti con la storia Me ne sono innamorato e non riuscivo più a staccarmi dalle pagine Quindi è stata una lettura che devo dire mi è piaciuta parecchio Volevo farvi vedere anche qualche disegno perché Tayo Matsumoto insomma aveva avuto modo di Di vedere qualche sua tavola Ma ha uno stile che è perfettamente riconoscibile E molto particolare che all'inizio magari ai lettori magari meno abituati a stili del genere Potrà magari non dico far sorcere il naso ma potrebbe un attimo lasciare Magari un pochino più interdetti perché è uno stile super particolare Ma che poi si sposa alla perfezione con una storia che tratta appunto Del ping pong e del tennis tavolo In maniera eccellente secondo me Con dei personaggi veramente particolari che ti rimangono in testa Perché hanno delle peculiarità insomma interessanti Uno stile grafico che aiuta ancora di più a marcare questo concetto Questi personaggi con insomma i loro problemi Le loro difficoltà ma anche soprattutto i loro pregi E la loro determinazione Che magari potrà far sorridere a qualcuno pensando che tratta Cioè appunto tratta di uno sport come il ping pong e il tennis tavolo Però devo dire che insomma è stata una lettura che mi ha riuscito appunto a farmi stare incollato alle pagine Magari non subito fin dai primissimi capitoli ma poi ha iniziato veramente a ingranare E me ne sono innamorato Sono felice di essermi approcciato a Taiyo Matsumoto con questa serie Tra l'altro recuperata appunto in questo cofanetto che non è neanche così malvagio Devo dire e poi in due volumi devo dire è stata una lettura anche abbastanza veloce da leggere Nonostante insomma come vedete siano dei bei mattoni ma scorrono molto piacevolmente Quindi io assolutamente vi consiglio ping pong di Taiyo Matsumoto In realtà non ci sarebbe neanche bisogno che ve lo consigli io Ne hanno parlato in tantissimi in varie occasioni Quindi io ci tengo solo a rimarcare che è una lettura che mi è piaciuta Che se non avete ancora avuto modo di approcciarvi io ve la consiglio Continuiamo ora con gli acquisti da fumetteria Mi tengo tutto l'usato in fondo E sto andando avanti con il recupero di Berserk Qua c'è il volume 14 che come vedete sto ancora leggendo E poi ho recuperato anche il volume 15 Devo dire che anche i capitoli immediatamente successivi all'eclissi non mi stanno dispiacendo E anzi mi stanno facendo comprendere meglio quello che avevo letto nei primissimi capitoli di Berserk Dove avevamo un gazzu con cui era veramente difficile entrare in empatia E penso tutti ci siamo domandati che cosa aveva portato a questa sua freddezza A questa sua cupezza generale ecco Che poi ci viene spiegato insomma nei volumi successivi come ben sapete Ma insomma per chi non l'ha letto non voglio entrare troppo nel dettaglio Ad ogni modo diciamo che adesso stanno tornando un po' tutte le cose che ci erano già state anticipate Quindi anche qua c'è stato secondo me un gran lavoro a livello di sceneggiatura e di scrittura Del personaggio di Gazzu Ed è una cosa che me lo sta facendo veramente apprezzare tantissimo Chiaramente sono ancora un po' indietro per quanto riguarda Berserk Però insomma pian pianino come vedete sto andando avanti Anche perché come ho detto già in diversi video acquisti è una delle letture Che negli ultimi mesi mi sta veramente rapendo come poche altre Di conseguenza è un recupero che faccio veramente spontaneamente Di cui sento veramente l'esigenza perché voglio portare avanti questa serie Che mi sta appassionando veramente tanto Sempre lato manga in edicola sta continuando ad uscire la serie Gazzetta di Bleach Di cui ho recuperato appunto il volume 64 Il 65 Il 66 E il 67 Allora finalmente vi parlo un attimo di Bleach Perché durante il mese di luglio finalmente ho ripreso a leggerlo Anzi l'ho proprio riletto da zero Perché l'avevo iniziato a leggere Poi me l'ho stoppato perché avevo dei volumi a regge miglia Sono stato a Lucca diversi mesi per ragioni di studio Quindi tra una cosa e l'altra me l'ho scordato un po' gli eventi Quindi ho letto i primi 5 numeri Nulla di che ragazzi Come vedete insomma siamo al 67 Però insomma ho dovuto intervallare Bleach anche ad altre letture E devo dire che è una lettura che non mi sta dispiacendo Anzi è anche abbastanza piacevole Non è pesante Forse in alcuni punti non mi prende proprio al 100% Per quanto riguarda certi personaggi Però ce ne sono altre tanti che comunque sono interessanti E di cui mi interessa insomma scoprire magari meglio il loro background Già nei primi volumi si scopre qualcosa in più su Ichigo appunto Sul protagonista Quindi da questo punto di vista comunque è una serie che sto ancora ovviamente scoprendo Ma che in queste primissime battute Le mie primissime battute che ho letto non mi sta affatto dispiacendo Io purtroppo non ce l'ho fatta a stare dietro con la lettura di settimana in settimana Quindi per forza di cose sono rimasto in questi mesi abbastanza indietro Ma non vedo l'ora insomma di andare avanti con la lettura So che Bleach a una certa magari peggiorerà Almeno questa è l'opinione generale che ho sentito in giro Però io insomma volevo recuperare questa serie Di cui ho sempre sentito parlare tanto E di cui insomma ha una fanbase anche abbastanza elevata Molto grande Quindi volevo conoscere meglio questo titolo E non vedo l'ora insomma di andare avanti con la lettura Continuiamo con dei recuperi manga nell'usato Effettuati al Rimini Comics Mi levo subito il numero 102 della New Edition di One Piece Perché l'ho recuperato a 3 euro Anziché 5,20 Questo volume ragazzi è uscito da pochi mesi praticamente Quindi io godo sinceramente Ad averlo recuperato a 3 euro Anziché 5,20 come il prezzo di copertina Quindi ci sta Ma a livello manga c'è stata un'altra serie che ho recuperato Purtroppo non in modo completo Perché non c'erano tutti i volumi Se no non avrei esitato a recuperarla Anche in virtù del fatto che ho letto i primi due numeri E mi sta appassionando parecchio E sto parlando di Manga Bomber Di cui ho recuperato i primi 5 numeri Adesso mentre parlo vi mostro le copertine È una serie che è veramente scomparsa dai radar Ragazzi io non so veramente Non sapevo veramente che fine avesse fatto Infatti non è stata ristampata Non è stata portata una nuova edizione E devo dire che è un peccato Perché è una serie che parla appunto Del mondo dei mangaka Anche se qua nella traduzione Vengono chiamati fumettisti Quindi vabbè ci sta È uscito nel 2005 questo manga Quindi bene o male Comunque hanno usato i termini Tecnici occidentali Ma ci sta Non è che una cosa che mi dà molto fastidio Però ci tenevo a dire questa cosa Per quanto riguarda la traduzione Volevo leggere da un po' di tempo Un manga che fosse o appunto Manga Bomber o Bakuman Insomma un manga che mi facesse vedere Un po' il dietro le quinte Del lavoro di un mangaka Dei mangaka insomma E Manga Bomber devo dire che lo mostra Anche se va molto Punta molto sull'eccessività Del mondo dei mangaka diciamo È particolare come manga Eccede tanto Però eccede in maniera intelligente È un po' difficile spiegarlo Se non avete letto il manga Però mi è piaciuto il fatto che Le storie che scrivono e disegnano Appunto i protagonisti di questo manga Abbiamo appunto il nostro protagonista Che è questo mangaka Sempre pieno di lavoro Fin sopra i capelli Che diventa Veramente si riduce In stati pietosi Per fare delle consegne Perché si sovraccarica di lavoro Però è interessante perché poi Tutte alcune storie Che lui disegna Si ripetono in qualche modo Nella vita reale Ci sono delle analogie Con quello che accade poi Nella vita reale E con quello che Con quello che lui disegna Nelle sue storie Mi rendo conto che è un concetto Un po' forse difficile da spiegare Ma è molto più semplice Di quanto sembri Semplicemente probabilmente Io non lo so spiegare Ma consiglio di recuperare Questa serie E sarei riuscita a trovarla Nell'usato Io ho letto i primi due numeri E mi hanno rapito Infatti Devo veramente impegnarmi Adesso a recuperare Gli altri numeri Perché sono 13 In totale Quindi non ho neanche Metà serie Però Visto che sono al momento Insomma Sono capitoli Ben o male autoconclusivi Sono mini archi Narrativi Non so se il manga Proseguirà per tutti I 13 volumi In questo modo Però se sono insomma Storie un po' Autoconclusive Ci sta insomma Recuperarlo Come lettura Un pochino più leggera Anche se comunque Fa vedere insomma Una critica Mostra una critica Abbastanza Non velata Verso insomma Il mondo Dei mangaka Ma anche verso I mangaka stessi Perché spesso e volentieri Sono i mangaka stessi Che si sovraccaricano Di lavoro In maniera Eccessiva Potremmo dire Quindi È interessante È interessante Spero veramente Di riuscire a recuperare I restanti volumi Nell'usato Continuiamo con un recupero Fatto grazie al buon Jan Bologna Che ringrazio Perché in uno Dei libracci Romani Praticamente Ha visto che C'erano dei volumi Di una serie Che stavo recuperando E di cui Mi mancavano Proprio Quei volumi E è stata Una coincidenza Assurda Comunque Sto parlando Di una serie Famosissima Apprezzata Amata Da tantissimi Ovvero Attacco dei giganti Nello specifico Ho recuperato I volumi Che mi mancavano Ovvero Dal 28 Al 34 Manca il 33 Come vedete Ma lo recupererò Senza grossi problemi In fumetteria Come sapete Negli ultimi mesi Ho avuto Qualche occasione Di recuperare Attacco dei giganti In usato E quindi Avevo deciso Di portare avanti Questa serie In questo modo Visto che comunque Erano 34 numeri E Insomma Ho avuto Delle occasioni Particolari Tra cui questa E quindi Non mi lamento Affatto Anzi Io di attacco Dei giganti Come avevo Già detto mesi fa Ho terminato La visione Dell'anime Ma in tanti Mi hanno detto Che ci sono Delle differenze Quindi sono curioso Di leggere Il finale Del manga Vero e proprio Visto che Insomma Attualmente Io sono aggiornato Solo alla versione Animata E E nulla Insomma Quindi ragazzi Ho finalmente recuperato Anch'io Praticamente Tutto Attacco Dei giganti Mi manca Come detto Soltanto Il volume 33 Ma lo recupererò Sicuramente In fumetteria E direi Che farò Una rilettura Cioè una lettura Proprio totale Del manga Visto che L'avevo iniziato a leggere Tempo fa Ma poi mi ero Stoppato Ma adesso che Praticamente Ho tutto il manga Praticamente Direi che posso Iniziare Effettivamente Una lettura Anche se comunque Bene o male Diversi eventi Anche grazie all'anime C'erli ho freschi Ma leggerli a manga Comunque sarà Un'esperienza Diversa Passiamo ora Ai comics Americani E partiamo A questo giro Però dalla DC Comics Semplicemente Perché vi voglio Mostrare un volume Che avrei voluto Leggere Ma poi mi sono Fermato Per un motivo Che adesso Vi spiego Sto parlando Di Catwoman Vacanze Romane Praticamente Io leggendo La postfazione Che c'è All'inizio Di questo volume Mi sono accorto Che è Un volume Comunque Abbastanza legato A Batman Vittorio Scura Sequel di Batman Il lungo Halloween Che ho già letto Però visto che devo recuperare Ancora Vittorio Scura Ho detto Senti facciamo una cosa Fatta a modo Mi recupero Vittorio Scura Così dopo che ho letto Vittorio Scura Mi leggo anche Vacanze Romane Non mi aspettavo Che fosse così Collegato Diciamo A Vittorio Scura Ma Ho detto Vabbè A questo punto Mi recupero anche Vittorio Scura Che è un volume Che dovrei recuperare Da anni Ma di cui ho sempre Rimandato L'acquisto Un po' per il costo Perché costa Insomma Sui 30 euro Mentre questo Questo volume Costava decisamente meno Poi ce l'avevo da parte Con gli sconti panini Da praticamente un po' Quindi l'ho pagato E dovevo forse Immaginare Visto che il team Creativo È sempre quello Di Jeff Loeb E Team Sale Però insomma Mi dispiace purtroppo Dover rimandare La lettura Di questo volume Perché Ho visto qualche Tavola all'interno E insomma Ho goduto Tantissimo Quindi Devo recuperare Assolutamente Vittorio Scura Dove comunque C'è anche La genesi Del personaggio Di Robin Quindi sicuramente È un volume Che non mi dispiace Recuperare Però peccato Perché ero un attimo Curioso di Leggere anche Questo volume Dedicato esclusivamente A Catwoman Tra l'altro A Roma Quindi Mi interessa molto Leggere questo volume Ma Ve ne parlerò meglio Magari In un video Poi dedicato In live su Twitch In qualche modo Ve ne parlerò Continuiamo Lato a Marvel Con il numero 4 Di Ultimate Spider-Man So che è già uscito il 5 Mannaggia a me Devo ancora recuperarlo Comunque Finalmente Un numero Che mi convince Di più Rispetto Ai precedenti Infatti In questo volume Si esplora Diciamo Un pochino di più Peter Ed MJ Potremmo dire Assieme ad altri due Personaggi Che non vi dico Perché magari sono Un pochino spoiler Però intanto Vi faccio vedere Delle tavole Perché devo dire Che David Messina Visto che c'è stato Il cambio Almeno per questo numero Di disegnatore Non c'è più appunto Marco Checchetto Devo dire che ha fatto Un ottimo lavoro E queste tavole Devo dire Non mi sono affatto Dispiaciute Ci voleva un volume Secondo me Per spezzare un po' Il ritmo Anche abbastanza Anche abbastanza frenetico Per quanto riguarda Alcuni eventi Che erano accaduti Serviva un volume Che prendesse Un pochino di respiro Anche se qua Comunque delle cose Accadono Seppur si tratti Solo fondamentalmente Di una cena Di un dialogo A cena Però insomma Devo dire che è un numero Che rispetto ai precedenti Non mi è dispiaciuto Continuiamo con due recuperi Effettuati Al Rimini Comics Perché ho recuperato Come spillati Dell'Uomo Ragno Appunto Soltanto Un altro giorno Parte 1 E parte 2 Allora Questi due volumi Sono importantissimi Diciamo Per la continuity Di Spider-Man Degli anni 2000 Insomma Dei primi anni 2000 Perché questa È una serie Che appunto Usciva nel 2008 Si ambienta Dopo Civil War E non è Una storia Molto allegra Abbiamo Strasinski Alla sceneggiatura Che è molto bravo A fare Delle sceneggiature Un pochino più Drammatiche Che toccano L'animo Di Peter E qua non solo Perché è molto presente Anche la figura Di MJ E poi abbiamo Insomma Un ottimo Giochesada Ai disegni Insomma Una storia Non molto allegra Vi invito A documentarvi Nel caso Non la conosciate Ma che è stata Tanti anni fa Insomma Importantissima Per poi Quello che è accaduto A Spider-Man Successivamente È un po' Un'occasione Sprecata Da Per quanto mi riguarda Perché Almeno per quanto riguarda Quegli anni Perché si è voluti Tornare a Una Una fase del personaggio Più scansonata Potremmo dire Meno impegnata Almeno Vedendo le saghe Che sono poi Venute successivamente Rispetto a questa Dove avevamo Un Peter Parker Sposato Con MJ Ma qua Insomma Accadranno eventi Che porteranno Insomma Alla fine Di tutto questo Quindi insomma Una storia Che comunque Sa colpire Sicuramente Ai lettori Appassionati Dell'Uomo Ragno Colpisce anche Di più Ha degli ottimi Momenti Alti Anche se Comunque Devo dire Che per la prima volta Mi sono trovato Un po' In disaccordo Quasi Con Delle decisioni Che ha voluto Prendere Peter Ecco Ho detto Cioè Veramente Mi è venuto a pensare Ma che stai facendo Però E anche questo L'Uomo Ragno È drammaticità È amore È insomma Una storia Che Invito a recuperare Se volete Approfondire La storia Anche recente Dell'Uomo Ragno Bene ragazzi Il video acquisti del mese di luglio Può terminare qui Vi ringrazio se avete visto il video fin qui Vi invito ovviamente Come sempre A lasciare un bel like Per sostenermi E a condividere il video Fatemi sapere cosa ne pensate Dei miei recuperi Anche per quanto riguarda L'usato Con un commento qua sotto Che a me fa sempre piacere Leggere e rispondere I vostri commenti Detto questo Le mie pagine social Twitch e Instagram Come sempre Ve le lascio qui sotto In descrizione Seguitemi anche lì Dove comunque sono attivo Detto questo Se non siete iscritti Iscrivetevi E noi ci vediamo A un prossimo video A un prossimo video A un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti